Martedì 26 dicembre, buon santo Stefano a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione del TG4 di Telecupole dedicato ai principali fatti, eventi, notizie e manifestazioni dal territorio. Partiamo dal Cunese, un ottimo bilancio per il turismo della Granda, diversificato, che punta molto sullo sci, sulla montagna, sull'escursionismo e su quel turismo lento che ha reso la provincia di Cuneo famosa in tutta Italia. La fine dell'anno segna come da tradizione l'epoca dei bilanci per il settore turistico cunese, analogamente ai risultati complessivi regionali, le prospettive lasciano spazio all'ottimismo. Sia partendo dai dati consolidati emersi dalle elaborazioni dell'osservatorio turistico del Cunese realizzato in partnership della TL del Cunese, Visit Piemonte e Union Camere Piemonte per il consuntivo dei primi nove mesi del 2023, sia analizzando i numeri ancora provvisori sull'andamento della stagione invernale. Nei primi nove mesi del 2023 il territorio del Cunese ha registrato un incremento del 9,2% negli arrivi e dell'11,8% nelle presenze rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I movimenti dall'estero sono aumentati del 15,4% negli arrivi e del 21,5% nei pernottamenti rispetto all'anno precedente. I movimenti turistici dall'Italia crescono del 6,7% per arrivi e dell'8,1% nei pernottamenti rispetto allo scorso anno. Il monitoraggio della spesa dall'estero nei primi nove mesi del 2023 conferma l'aumento dei movimenti. Sul territorio Cunese si riconduce sostanzialmente al mercato francese, 62%, poi al mercato tedesco, 7%, Svizzero 7% e il resto dell'Europa 6%. A seguire gli Stati Uniti con il 5%. Stabile il numero di recensioni per il comparto ricettivo, i commenti riflettono la soddisfazione del cliente del prodotto turistico del Cunese, maggiore rispetto al dato complessivo del prodotto Piemonte, 89,1 su 100 contro 87,3 su 100. Nel periodo gennaio-settembre 2023 il tasso di saturazione registrato nelle OTA, Online Travel Agency, corrisponde al 34%, più 0,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente nella TL del Cunese, mentre per la montagna Cunese pari al 33,4% in calo in confronto al 2022. Via libera invece dalla Giunta regionale alla dotazione finanziaria per la seconda edizione del bando Switch, che verrà pubblicato nei primi mesi del 2024, rivolto a micro, piccole e medie imprese e alle start-up innovative, ma anche alle grandi imprese e gli organismi di ricerca, purché in collaborazione con le PMI, con sede operativa o produttiva in Piemonte. Il bando che persegue l'obiettivo di sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione, anche con l'introduzione di tecnologie avanzate delle imprese del sistema di ricerca piemontese, anche per il 2024 poggerà su una dotazione finanziaria di 80 milioni di euro a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il FESR 21-27. Problemi per lo smog a Torino, purtroppo i parametri di inquinamento sono troppo elevati, bisogna correre ai ripari. I piemontesi guadagnerebbero in media 0,97 anni di vita se si riducesse il livello di particolato sottile, PM2,5, ovvero polveri inquinanti, adeguandolo a livello fissato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di 5 microgrammi per metro cubo. Secondo i dati elaborati da Air Quality Index, il Piemonte ha una concentrazione di 16,71 microgrammi per metro cubo. Attenzione, benché il trend si è decrescente, nel 2011 erano 24 microgrammi, nel 2013 19, nel 2016 17, i dati sono relativi al 2021, il che implica una possibile ricrescita della curva con valori del 2023 che potrebbero essere più alti per via del rimbalzo post-Covid. Con un livello di 16 e oltre microgrammi per metro cubo, il Piemonte è la terza regione italiana che produce più PM2,5, davanti ci sono solo i Lombardi e i Veneti. In testa c'è Torino, seguono Alessandria, Asti, Novara, Vercelli e Cuneo. Netta la differenza con Biella e il Verbano Cusiossola. Nella regione quindi non tutti gli abitanti respirano la stessa aria, sempre secondo Air Quality, se si adottassero politiche più restrittive e si adeguasse il livello di questo particolato sottile alle linee guida dell'OMS, i piemontesi guadagnerebbero quasi un anno di vita. Il dettaglio delle province è ormai simmetrico con quello del livello di inquinamento, i torinesi guadagnerebbero 1,25 anni di vita secondo le stime di lungo periodo di ACUI. Secondo discorso per Alessandria, Asti e Novara che avrebbero a disposizione un anno pieno in più per vivere, Cuneo qualcosa in meno, così come Biella e il Verbano Cusiossola. Da oggi fino al 21 aprile del prossimo anno 2024 sono aperte le iscrizioni accessibili nella sezione bandi della regione Piemonte per assegnare 3 milioni e mezzo di euro alle proloquo e un milione e mezzo per le associazioni d'arma e corpi riconosciuti dal Ministero della Difesa. Uno stanziamento record, il più imponente degli ultimi dieci anni secondo la ragioneria della regione che ha dovuto allestire un bando apposito per assegnare il finanziamento alle 1077 unioni di promozione locale di cui 250 si trovano in provincia di Torino. L'ultima volta infatti che l'amministrazione regionale aveva messo a disposizione dei fondi pubblici per le proloquo risale al 2014 quando furono assegnati circa 2 milioni, un milione e mezzo in meno rispetto a quest'anno. E ora ci spostiamo ad Alessandria, molte le associazioni che aiutano i poveri, poveri che stanno crescendo molto nel capoluogo mandronio. Sentiamo. Il freddo si fa sentire, lo patisce ancora di più chi è in difficoltà e vive in mezzo alla strada. Una situazione che i volontari della casa di quartiere di Alessandria conoscono bene, abituati ad assistere le persone più sfortunate ogni giorno. Proprio per far fronte all'inverno, l'associazione ha lanciato un appello per ottenere stufette, coperte e piumoni da distribuire ai clochard. Chiunque vuole dare una mano e portare il materiale necessario in via Verona 116, in casa di quartiere Alessandria o in via delle Orfanelle 25 alla Caritas Alessandrina. L'unità mobile della casa di quartiere è in strada di notte ad Alessandria per tre sere alla settimana nel periodo invernale e assiste più di 120 contatti notturni, fornendo 60 coperte e 10 sacchi a pelo, con e senza tenda ogni mese. Per capire la gravità della situazione, ogni mese sono 20 le nuove segnalazioni e richieste di aiuto e assistenza da parte dei cittadini. Restiamo nell'Alessandrino. Tortona è il primo pronto soccorso piemontese gradenigo a parte ad essere privatizzato. Dopo un anno di dibattito, dopo le dichiarazioni dell'assessore alla sanità Luigi Icardi, che si è detto favorevole all'ipotesi di privatizzare i pronto soccorso e le frenate del presidente del Piemonte Alberto Cirio, l'operazione è andata in porto e la provincia di Alessandria farà in questo caso da pioniere. Sono invece già passati tre anni da quando i ricercatori dell'Università dell'Insubria, insieme alla Sovrintendenza d'Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano Cusiossola e Vercelli, al Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università del Piemonte Orientale e all'Ufficio diocesano per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto di Vercelli, hanno avviato uno studio bioarcheologico nel cimitero di Santa Maria Maggiore di Vercelli. Di particolare rilievo sono i contenuti prodotti nell'ambito dei progetti al capitolo ricerca e istruzione. Le indagini archeologiche e antropologiche finanziate hanno di fatto permesso di ottenere risultati importanti nell'ambito della ricerca bioarcheologica del territorio di Vercelli. Tempo di bilancio anche nel settore primario, in particolare l'ortofrutta. Sentiamo l'intervista a un esponente di spicco del settore. Paschetta, il settore dell'ortofrutta è uno degli elementi trainanti della cooperazione e da questo punto di vista avete anche risolto alcuni problemi di carattere logistico, strumentale con i lavoratori della frutta e tutta una serie di filiere legate proprio alla manodopera in agricoltura. Sì, il comparto ortofrutta è forse il comparto che necessita di più di lavoro stragionale e quindi era un problema veramente imponente quello da risolvere e l'abbiamo risolto facendo squadra sia tra le OP, sia tra le organizzazioni professionali e anche coi comuni. Questo ha fatto sì che abbiamo e la regione Piemonte che ci ha messo a disposizione dei fondi sia per ristrutturare i vecchi caseggiati, per fare dei ricoveri, quindi dare alloggio agli stagionali, ma anche per l'affitto e l'acquisto di container per adibire dei campi dove si potesse avere sia il servizio che la possibilità di dare alloggio agli stagionali. Questo ha fatto sì che in tre o quattro anni un problema che metteva in imbarazzo molte cittadine della zona sia stato quasi risolto. Sono invece arrivati a Marengo, nell'Alessandrino, i pezzi napoleonici concessi in prestito dal Museo Storico Nazionale di Artiglieria di Torino, primo museo militare italiano e uno dei primi al mondo. Collocati lì, dove Giovanni De Lavo raccolse la collezione che costituì uno dei primi esempi di museo napoleonico al mondo, spiega Maurizio Sciaudone, consigliere provinciale delegato al Polo di Marengo. Gli abbiamo tenuti in esposizione temporanea obiettivo arricchire il Marengo Museum di autenticità oltre che di antichità e preparare la grande rievocazione del 2025. Un altro dei posti più belli in assoluto in Piemonte e in Italia, la Palazzina di Caccia di Stupinigi e l'anno del rilancio per la Regia. Luogo che vai, maestosità che trovi, dal rococò della Palazzina di Caccia di Stupinigi al gotico della precettoria di Sant'Antonio di Ranverso fino ad arrivare alla bellezza medievale dell'Abbazia di Staffarda. Il territorio del Torinese è ricco di siti che possiedono alle spalle secoli di storie che vantano un valore culturale tale da essere riconosciuti come patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Un tesoro che viene tutelato e valorizzato da Fondazione Ordine Mauriziano che per il Biegno 2023-2024 ha stanziato 20 milioni di euro per i progetti di restauro e per l'apertura al pubblico di spazi chiusi da decenni. Un investimento reso possibile grazie alla sinergia tra pubblico e privato e al quale ha contribuito anche il Ministero della Cultura, spiega Alicia Mattioli, presidente della Fondazione. Torino, con le sue residenze sabaude e i suoi luoghi di culto, non ha niente da invidiare ad altri territori. Al contrario, ogni anno i visitatori sono sempre di più e nel 2023 i numeri sono andati ben oltre il periodo pre-pandemia. Per quanto riguarda la palazzina di caccia di Stupinige, ad esempio, contiamo oltre 100.000 ingressi annui. Con determinazione abbiamo consolidato collaborazioni territoriali e razionalizzato le risorse per iniziare a pensare al futuro dei siti con basi solide. Come sarà la palazzina di caccia di Stupinige nel 2025, la dea Diana continuerà a presentarsi ai visitatori tramite gli affreschi della residenza, che sarà sempre più simile a come veniva effettivamente vissuta nel Settecento. Ad oggi il percorso museale è interrotto nella sua linearità dalla chiusura di due sale, l'appartamento del re Carlo Felice e quello del principe di Carignano. Tramite i lavori di restauro, non solo gli spazi dell'ala di Ponente verranno riaperti, donando al pubblico l'opportunità di immergersi nella quotidianità e nel gusto dei Savoia. Soprattutto verrà ripristinato l'originario percorso ad Anello. Allo stesso tempo si lavorerà per il restauro del giardino storico e, tra i progetti futuri, c'è anche la volontà di svelare i luoghi nascosti della residenza Sabauda. A Levante si interverrà per riportare alla luce una galleria interrata che permetteva, tramite un sistema di stufe, il riscaldamento del palazzo. A poco più di 20 km dalla palazzina di caccia di Stupinigi si trova la precettoria di Sant'Antonio di Ranverso. Alle porte della Val di Susa le origini del complesso monastico risalgono al XII secolo. Prima convento, poi foresteria, il luogo in seguito si è trasformato in un lazzaretto che accoglieva le persone afflitte dal fuoco di Sant'Antonio. Sulle pareti gli affreschi diventano testimoni della vita del posto con capolavori rinascimentali e i cicli pittorici di Giacomo Giacquerio, esponente del gotico internazionale. Per la prima volta nella sua storia, Sito verrà reso completamente fruibile con l'ampliamento del percorso di visita e il recupero dell'area aulica conventuale. Facciamo un salto sulle montagne del Torinese, dieci volte camaleontica. Tante sono le edizioni della rassegna teatrale Almesina, proposta da moderne officine Valsusa e Fabula Rasa, in collaborazione con Piemonte dal Vivo, con direzione artistica a cura di Beppe Gromi, insieme a Katia Bolognesi, Francesca Zitti e Valeria Fioranti. La nuova avventura di teatro e danza contemporanea parte sabato 13 gennaio e si conclude sabato 11 maggio, sempre con spettacoli alle 21 al Teatro Magnetto di Via Vigliana 17. In cartellone sette spettacoli con importanti collaborazioni e l'intento di promuovere l'apertura del territorio nei confronti dell'arte e della socialità. E ora il vino delle feste, l'asti di OCG. Per le feste attese 30 milioni di bottiglie consumate, saranno circa 30 milioni, il 30% sul totale produttivo di quest'anno, le bottiglie delle storiche bollicine aromatiche stappate in queste settimane. Il servizio. Oggi è festa, recitava lo slogan coniato da Armando Testa nel 1959 in una delle più celebri campagne pubblicitarie dedicate alla denominazione asti di OCG. E anche sei decenni dopo, asti spumante e moscato d'asti si confermano protagonisti nelle case degli italiani e delle feste in famiglia nei cinque continenti. Saranno circa 30 milioni, il 30% sul totale produttivo di quest'anno, le bottiglie delle storiche bollicine aromatiche stappate nelle prossime settimane. Di queste, 9 su 10 sbarcheranno sulle tavole di tutto il mondo, mentre in Italia Pandoro e Panettone saranno come sempre accompagnati dalla denominazione spumantistica più antica del bel paese, con oltre 3 milioni di bottiglie consumate. Lo rileva al Consorzio Asti di OCG, una stima sui consumi previsti di asti spumante e moscato d'asti tra Natale e Capodanno. La geografia delle bottiglie presenti sulle tavole parla tutte le lingue del mondo, a partire dall'est Europa, in particolare Russia, Ucraina, Polonia, Lettonia, Lituania, dove si concentra il 30% del mercato, con l'asti spumante sugli scudi. Stessa quota per l'Europa occidentale, dove oltre all'Italia, 10% rimane alto il gradimento del Regno Unito, 6% della domanda complessiva, ma anche di Germania e Austria. Gli Stati Uniti si confermano invece destinazione preferita per un altro 25% di un mercato mosso, soprattutto della domanda di moscato d'asti. Tra i paesi extraeuropei, il Consorzio segnala gli emergenti latinoamericani, a partire da Peru e Messico e l'Asia, oggi a tutti gli effetti area sempre più strategica. E torna dopo il successo della prima edizione Lumière de Noël a Forte du Bard, luci di Natale al Forte du Bard, lo spettacolo immersivo a 360 gradi fatto di suoni e luci nella grande piazza d'armi della fortezza. Fino al 7 gennaio, a partire dalle 17.30, la piazza si cala in un'atmosfera scintillante e surreale per celebrare la magia delle feste con gli effetti speciali del videomapping che verranno proiettati sulle facciate in un nuovo e inedito allestimento che omaggerà le tradizioni e i paesaggi della Valle d'Aosta, dal titolo La Valle Incantata. L'Associazione Forte di Bard ha programmato già prima di Natale una serie di aperture prolungate sino alle 20 il venerdì, sabato e domenica, per consentire di vivere a pieno la magia delle proiezioni. Dal martedì a giovedì sarà invece mantenuta l'abituale chiusura alle 18.00. Un altro luogo incantato del Piemonte è il magico paese di Natale che ormai è diffuso in più luoghi di Langeroero e Monferrato. Il magico paese di Natale, evento diffuso nel territorio delle Langeroero e Monferrato in Piemonte, scala la classifica dei mercatini più importanti d'Europa, ottenendo ben 31.761 voti e si classifica al settimo posto del contest European Best Christmas Markets 2024. Oltre alla qualifica che lo vedrà per il quinto anno consecutivo rientrare nella top ten dei mercatini europei più suggestivi e amati, il magico paese di Natale è stato nominato come il mercatino più romantico d'Europa. La votazione è stata il risultato di un contest della durata di otto giorni tra il 30 novembre e il 7 dicembre. Dal resto sono i numeri a confermare la crescita di questo evento che oggi rappresenta il motore del turismo piemontese in questo periodo dell'anno. Basti pensare che nella scorsa edizione il magico paese di Natale è stato preso d'assalto da oltre 500.000 persone, con un coinvolgimento di oltre 2.700 strutture ricettive e 11.000 operatori turistici, a conferma del ruolo strategico per lo sviluppo economico-commerciale di tutto il territorio. Una manifestazione che si proietta anche nel futuro, dai risvolti sempre più green. Entro il 2028 il magico paese di Natale mira a diventare la prima manifestazione natalizia a impatto zero, confermando la sua attenzione verso la sostenibilità ambientale. Ad Asti, fino al 17 dicembre, si terrà il mercatino natalizio, l'unico in Italia a essere entrato nella top 10 dei migliori mercatini natalizi d'Europa. Proprio in cima a una delle tante colline del Roero è situato il piccolo ma incantevole paese di Govone, con il suo castello patrimonio unesco, le vigne, i campi e l'impressione di essere trasportati lontani nel tempo e nello spazio, fino a raggiungere la Govonia, la residenza di Santa Claus della Corte Elfica. Anche per sabato 16 e domenica 17 dicembre il pittoresco borgo apre le porte alla casa di Babbo Natale, allestita all'interno del suggestivo Castello Reale, dove musical e animazione ricreeranno un'atmosfera fiabesca. Sarà possibile incontrare Santa Claus in persona e i suoi simpatici e insostituibili di elfi, indaffarati per le preparazioni natalizie e imparare i segreti per diventare dei veri aiutanti di Babbo Natale. Per offrire infine un intrattenimento che soddisfi anche coloro che sono meno inclini alle animazioni classiche, sarà anche possibile addentrarsi tra le sale di Natale a Casa Savoia per un viaggio temporale che porta il visitatore a conoscere la cultura ottocentesca inerente al periodo natalizio e ammirare nel contempo le magnifiche sale del maniero, giunte quasi intatte fino ai giorni nostri. Il tema sviluppato quest'anno è quello dei simboli del Natale, di ieri e di oggi. Curiosa notizia, il Tar del Piemonte con una sentenza articolata e scendendo nel merito di ogni profilo giuridico che Rifugio Miletta con l'avvocato Angelita Caruocciolo avevano sollevato, ha annullato il provvedimento di abbattimento di Tina, la maialina vietnamita incrociata con un cinghiale che vive a Castelletto sopra Picino nella famiglia di Gabriele Zanalda. Il provvedimento di abbattimento dell'Asla di Novara era abnorme, immotivato, né tantomeno sostenuto da norme e da disciplina che avevano richiamato. Il Tar ha ritenuto infondata anche la relazione postuma che l'Asla di Novara ha presentato tentando di giustificare l'operato precedente, ha commentato l'avvocato Angelita Caruocciolo. Ed essendo in questo periodo di feste quindi in tema di Natale, la stella di Natale è il fiore simbolo assoluto di questo periodo. Immancabili in questo periodo dell'anno le stelle di Natale, che nella Granda sono presenti in quasi una casa su due. E' quanto riferisce col diretti cuneo, evidenziando però la difficile situazione dei vivai, costretti dai rincari a ridurre l'offerta del fiore simbolo del Natale. Il comparto florovivaistico sconta l'impennata delle bollette energetiche e dei costi per materiali e fertilizzanti nelle serre, che ha tagliato di circa il 15% la produzione, evidenzia il presidente di col diretti cuneo Enrico Nada. Per le stelle di Natale, spiega col diretti cuneo, sono richiesti fra i 15 e i 20 gradi all'interno delle serre e con le temperature invernali è necessario compensare facendo lavorare al massimo le caldaie con un vero e proprio salasso per i vivaisti. I rincari dell'energia si trasferiscono sui costi di produzione, come quello per gli imballaggi ed i vasetti dei fiori, rendendo insostenibile la situazione. E' a rischio un comparto strategico del Made in Italy che sta cercando di risollevarsi dopo aver pagato un prezzo pesantissimo la crisi causata dalla pandemia, evidenzia Fabiano Porcu, direttore di col diretti cuneo. Il florovivaismo in provincia di Cuneo coinvolge centinaia di aziende. Per una produzione l'orta vendibile di oltre 26 milioni di euro ed una produzione di piante ornamentali superiore ai 2 milioni. Non tutti sanno, spiega col diretti, che i veri fiori della stella di Natale sono quelli di colore giallo all'interno, mentre le parti di colore rosso, ma anche rosa o bianco, non sono altro che foglie che assumono tale colorazione in particolari periodi dell'anno e cadono verso la primavera. La pianta resta viva anche dopo la perdita delle foglie ed è molto importante tenerla all'ombra durante il periodo di stasi, lontana da luoghi dove possa ricevere luce artificiale, perché si tratta di una pianta brevidiurna che fiorisce in conseguenza di un adeguato periodo trascorso con un basso numero di ore di luce. Ed è veramente tutto, si chiude questa edizione del nostro TG4, anche in questo caso vi lascio la vignetta di Gianni Soria, buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci alle prossime edizioni dei nostri notiziari, un buon Santo Stefano a tutti voi. Grazie a tutti.